Io sono Lucia, Lucia dei Bayard e il mio personaggio entra all'inizio, è la padrona di casa, riceve un po' i vari parenti che arrivano, i figli, poi i nipoti, insomma, parte la stirpe dei Bayard, è una storia di famiglia che si svolge tutta durante un grande pranzo di Natale con gioie e i dolori della vita familiare, le nascite, le morti, mentre si è sempre a tavola durante il pranzo natalizio, col tacchino, i brindisi, i saluti, gli aneddoti, i racconti dei vicini, i regali, la vita familiare di una famiglia americana come potrebbe essere una famiglia italiana.